e ci siamo ci siamo ci siamo benvenuti su go italia eccoci con il video di fine anno dalla mia piccola astronavi sono davide informatico di lunga data un po si vede spero di no ecco motociclista gattaro per sbaglio un ringraziamento speciale a miscia e alleo mio canale in questi anni ho portato quasi tutti i tiplà video giochi signori qui sono quello più vecchio e pazzo perché diverso youtube youtube è la piattaforma dove puoi trovare tutorial come scalare una montagna costruire una casa sull'albero imparare una lingua oppure semplicemente sentire la musica mentre lavori rilassarti guardando un video e tanti video di gattini youtube è un universo incredibile e dove poter comunicare ed imparare da altre persone che hanno le tue stesse passioni dove trarre ispirazione per cambiare la tua vita o semplicemente per provare una ricetta nuova vabbè aiuto perché fai video di youtube fare video ti costeggia di imparare tante cose nuove ed io adoro imparare usare la tecnologia posso dire che per me è stato un passo quasi naturale ho imparato ad assemblare pc aggiustarli migliorarli usare programmi per registrare fare streaming e programmi di editing mi piace creare video su youtube perché mi ha costretto a vincere la mia timidezza davanti ad una telecamera e ad oggi posso affermare che mi piace intrattenere chi mi guarda e posso dirvi e promettervi che lo farò sempre con onestà con passione con pochissimi filtri è sempre un po di pazia bene in questo lungo viaggio non è la meta la mia destinazione ma il mio vero obiettivo è il viaggio in sé vi aspetto di viaggiare con voi di ridere piangere appunto perché no anche armi e quindi perdonatemi se lo farò e spero spero che vogliate farmi compagnia il biglietto sarà sempre gratis in questo viaggio che sarà ancora nel 2024 più emozionante o qualche sorpresa del canale non facciamo spoiler ma vedrete ragazzi si parte go